Chloé Kardashian Chloé Kardashian, prima uscita dopo annuncio gravidanza Chloé Kardashian torna in pubblico dopo l'annuncio della gravidanza avvenuto lo scorso 26 settembre, e basta guardare una delle tante foto dell'evento celebrativo relativo al primo anno della sua linea di vestiti per vedere che lo stato interessante le dona E' vero, le Kardashian, e le Jenner, sono conosciute per i loro eccessi, ma quando si tratta di gravidanze di solito essi vengono messi da parte Lo sappiamo, è particolarmente curioso che tre sorelle Chilie, Chloé e Kim, seppure tramite surrogata, MDR, siano incinte allo stesso momento e che scorrendo siti specializzati in news con protagonisti oscurati questa era una possibilità paventata già nel 2014 Ma tralasciando questo aver visto la figlia di Kris Jenner così radiosa di certo non guasta. Ha raccontato intervistata, commentando la scelta di un completo perfetto per mettere in risalto i suoi punti giusti, compresi le curve da gravidanza Il mio peso fluttua praticamente da sempre e amo ciò, mi sento a mio agio in ogni taglia. Quando ero più in carne e indossavo vestiti più grandi sembravo più in carne di quello che ero Ora amo abbracciare le mie curve, non importa quale sia la mia taglia E si tratta di un approccio intelligente Sia in generale, che pensando allo stato interessante nel quale si trova. La donna è in attesa del primo figlio con l'atleta Tristan Thompson dei Cleveland Cavaliers Ed è facile immaginare, sebbene sia stata confermata, la contentezza della coppia per il lieto evento. La speranza, lo ammettiamo, è che la madre della giovane non lo trasformi in un fenomeno da baraccone Grazie a tutti!